Ciao a tutti ragazzi da Tasche e da Satanello Diciamo che oggi andiamo a provare per la prima volta finalmente Blackout Eccoci nel lab di pre-partita Cominciamo già a capire che sono in giro vari oggetti da prendere Lanciamo una bella grande sfardetta per dar fastidio alla gente Maggiamento rapido, usa paranoia Chissà cos'è Paranoia Poi prendere a cazzotti la gente in faccia E non si muove di un millimetro Ovviamente elimina tutti gli altri giocatori Stiamo per arrivare sulla mappa con questa breve presentazione Ed ecco il nostro Venivo Un mappa Su cui possiamo scendere Sceglio di scendere a Rivertown Sì, Rivertown Insomma è stato a Rivertown Ragazzi ma bisogna correre A prendersi subito Queste sono le armi di varia classe Ovviamente Usa Usa rinforzato Aggiornamento Rilevato possibile collasso Consigliato trasferimento nella zona sicura indicata Quindi devo andare verso la zona sicura Io sono in mezzo a un campo di lattuga Correre Mettendo questo Oh qualcuno è morto Ragazzi Qua è successo qualcosa In maniera molto sofisticata Entro in questo appartamento In maniera poco sgabo Collasso del cerchio imminente Portarsi al sicuro Ebbene sì E se lo molli così ti ferma Lissima giustamente Lancio di rifornimenti in avvicinamento Ragazzi è là E' là E' là E' là Queste sostanze agiscono disorientando le funzioni cerebrali E creando effetti sensoriali del tutto imprevedibili Eccolo la Abbiamo un ospite Amici Ucciso in 0 Ucciso in 0 danno 100 prima partita, non è schifo in pratica.